Innanzitutto mi piacerebbe capire dove prendono questi dati e se è possibile averli anche noi come Comune di Monterabate, visto che non riusciamo ad ottenerli e soprattutto noi abbiamo dei dati che non sono quelli che utilizza la Regione. E già, come dicevo l'altra volta, questa cosa non va assolutamente bene. Loro dicono che il nostro tasso è elevato, io so che esistono e abbiamo delle persone in quarantena perché comunque hanno contratto il virus, ma sono nuclei familiari e quindi secondo il mio punto di vista questa è una cosa da tenere in considerazione. È chiaro che una decisione del genere, io penso che la Regione non ha proprio capito che cosa scatenerà o cosa ha già scatenato, perché le persone sono stanche. Io da ieri pomeriggio, da quando ho fatto il post per far portare a conoscenza i cittadini, ho ricevuto insulti e anche minacce, quindi stamattina abbiamo trovato scritto davanti alla porta del Comune parole che è meglio che non ripeto, quindi la situazione è esasperata. Mi viene un po' da sorridere perché mi chiedo come sia possibile che sulla Regione Marche, che è composta da 247 comuni, tre comuni che tutti insieme, forse arriviamo a 35.000 abitanti, possano compromettere il dato famoso RT o come si chiama per non avere la Regione in giallo. Non ci credo, quindi qualcuno mi deve spiegare le cose. Lo devono fare per me, lo devono fare per i cittadini perché altrimenti sembra un po' qualcosa di poco chiaro, non voglio usare parole inappropriate. Una doppia indignazione, chiamiamola così, anche perché si mette nei panni le stesse delle numerose attività che potevano ricominciare questa settimana e che si vedono di nuovo per 5-6 giorni dover rimanere chiusi. Infatti, questo è stato il mio pensiero di ieri, i primi a essere avvisati sono stati loro, sia i ristoratori che i baristi, perché purtroppo anche per questa altra settimana devono stringere i denti e cercare di andare avanti con questo pseudo asporto che non so fino a che punto può essere soddisfacente. E' chiaro che è un danno, un danno economico perché le loro prenotazioni sono stati costretti ad annullarle e queste persone che comunque faranno festa il 1 maggio e anche il 2, domenica 2, si recheranno nei comuni vicini a noi come Pesaro, Tavuglia, che invece sono gialli. Mi viene un po' da sorridere perché mi chiedo, ma se gli spostamenti nel comune di Montarabate di Vallefoglia sono vietati e una persona da Urbino deve andare giù a Pesaro, cosa facciamo? Lo blocchiamo, perché io farò bloccare tutti e chiederò udienza al prefetto perché voglio che mi mandino su altre pattuglie, perché non è possibile che il comune di Montarabate riesca a fare questo controllo con tre vigili perché uno è infortunato, quindi non è possibile.